vai ecco lui dice che è il nostro decano Roberto Cefalù è veramente il meno giovane Marco Lamartina quest'anno in via del tutto eccezionale sostituisce Federico Provenza Marco Lamartina vai Marco allora Marco ce l'abbiamo tutta a posto perché fra l'altro oggi è la giornata di San Lorenzo stanotte ci sarà anche la notte di San Lorenzo auguri a quanti portano questo nome e permettetemi al mio nipotino Lorenzo Marco tutto a posto? ok seppi la mattina vai seppi ecco io mi avvicino perché Pasqualino Marsala mi avvicino perché quest'anno mamma sua lo guarderà da lassù Pasqualino Marsala guardate quante persone presenti qui oggi a Cefalù per questo grande momento della tradizione Antonino Popa Antonino quanti Nino fra sette anni fra sette anni Antonino speriamo di no Antonino Popa di no noi dell'associazione Presidente Nammare vi ringraziamo di cuore il nostro applauso è per voi perché siete così numerosi è un'amico